siamo alice e sofia ci troviamo nel nuovo centro estetico ausonia evolution in corso milano dove ci occupiamo principalmente di bellezza e benessere quindi rimodellamento corpo remise in forma e trattamenti viso personalizzati oltre che servizi anche di manicure pedicure e smalto semi permanente gel oltre tutti i servizi di estetica avanzata proponiamo anche tutto ciò che riguarda il mondo dell'extension ciglia della laminazione e anche della darmi pigmentazione con la nostra super professionista sandra briceno abbiamo anche comunque una parte dedicata proprio alla rivendita di tutte quelle che sono le linee professionali passando dal make up a comunque cosmetici viso e corpo linea mani quindi comunque abbracciamo un po tutta quella che è anche la rivendita professionale ci siamo affidati a baldan group per questo macchinario che in realtà più che macchinario una vera e propria attività che va a riattivare il metabolismo aerobico quindi il metabolismo che va a sciogliere proprio l'adipe o volgarmente detto grasso e consiste in un movimento lento ma costante ok un movimento gentile che ovviamente abbinato con l'infrarosso un infrarosso selettivo dal nostro ingegner marchesi va proprio a riattivare appunto il metabolismo aerobico quindi andando ad agire in profondità nei tessuti questo è t-shape un macchinario sempre di baldan group e trattiamo il rimodellamento localizzato quindi proprio andiamo nei punti critici e li andiamo a trattare in profondità è un macchinario che ha tre tecnologie per non dire quattro in quanto a vacuum radiofrequenza lipolaser e contiene anche infrarosso ovviamente ogni tecnologia ha la sua funzione ma la sinergia contemporanea di tutte queste tecnologie ci dà dei risultati veramente stupefacenti t-shape si può utilizzare anche sul viso con gli appositi manipoli e si vanno a stimolare i tessuti con la radiofrequenza per ottenere risultati per quanto riguarda l'anti aging e rimpolpanti molto molto efficaci questo spazio invece dedicato a un allenamento personalizzato di 20 minuti anche perché comunque non ha molto tempo a disposizione e praticamente ci si avvale poi di una tutina che viene indossata e proprio che fa elettrostimolazione attiva quindi andiamo ad intensificare quella che poi è l'attività aerobica svolta durante l'allenamento grazie a tutti